Si parla dell'ospedale del Casentino perché a distanza di tempo c'è ancora carenza del personale. Siamo tornati sul tema perché malgrado le rassicurazioni che ci erano state date dal direttore generale, quelle carenze del personale per il reparto di medicina, anche per il pronto soccorso, non sono state ancora colmate. Non solo, non è stato ripristinato neppure il servizio di neuropsichiatria infantile. In un quadro ancora più difficile perché di fatto è stato aperto un reparto di cure intermedie per pazienti Covid e il personale medico e infermieristico di medicina e chirurgia oggi opera anche in quel reparto lì, all'interno dell'ospedale di Bibiana. Noi questo stato di cose non lo possiamo accettare perché abbiamo sì la necessità di dedicare assistenza ai pazienti Covid, ma al tempo stesso vorremmo un ospedale con il personale sufficiente per dare un servizio adeguato a tutta la popolazione del Casentino. Noi abbiamo sempre tenuto alta la guardia per avere un ospedale efficiente in Casentino e continueremo a farlo. Venerdì ho protocollato questa interrogazione proprio per avere risposte da parte dell'azienda, ma risposte non soltanto sulla carta, è ora che siano date risposte nei fatti, perché il Casentino merita decisamente di più anche dal punto di vista proprio della sanità.